ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della pixelmon con mermerald ciao a tutti merdmerald anzi allora reso conto cosa abbiamo fatto nello scorso episodio magmatic dinamo che vanno a lava quindi se volete vedere come abbiamo risolto il cazzo della lava nel nether andate a vedere l'episodio di emerald nel canale in descrizione però se non volete iscrivervi non iscrivetevi perché tanto lo sappiamo che è puzza però il video guardate però che potrebbe essere interessante cosa facciamo in questo video io direi punto 1 dormire addio addio amici addio addio io sto dormendo fuori casa tu sei benvenuto nella casa blu tu sei benvenuto nella casa blu l'unica che pare devo vittare uffa vabbè emerald fai un ender tank ender tank madonna e io invece cosa ne abbiamo già fatte le ender chest noi si le hai fatte tu inutilmente eccole qua il query è qui eeeh da 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 mi devi fare 4 road di cose di blades aspetta quindi vabbè lo sapete noi come facciamolo perchè purtroppo non ci sono le cazza bocce lì allora poi eh ma dove è andato a finire il tesseract ce l'ho io ah ok e i landmark mmm ma lo so tu sei benvenuto nel landmark blu oddio sono scomparsi i landmark ah ho 3 master ball perchè io vado a caccia di boss in off camera capite mi diverte vabbè qui ci sono 4 redstone torch e facciamo altri landmark ho capito no redstone torch cazzo landmark gg ok mermi ah guardate i materiali che abbiamo questo è perchè io vado anche a scavare in off camera beh qui no guardate qui e qui ok dove andiamo eme? aspetta mi devi dare i cosi ma perchè non te li sai prendere da solo scusa? no che palle quanti te ne servono? 4 ma l'hai già buttato i cosi lì? no quindi 4 per 2 sono 8 8 destroy item eh ma sono dietro di 6 no passami per favore che hai già fatto tutti i craft e che palle ok dai presi ehm allora ragazzi dato che comunque voi dovete sapere le cose ehm probabilmente allora questo dato che è il quarantesimo quarantesimo questo è il quarantesimo non il quarantesimo il quarantesimo il quarantesimo è il quarantesimo episodio della pixelmon dato che comunque la pixelmon non durerà in eterno vero eh non durerà in eterno esatto esatto io e emerald c e probabilmente anche altra gente molto sexy però noi siamo più sexy molto più sexy faremo un'altra serie che non sarà pixelmon ovviamente ma sarà su qualcosa che voi non saprete mai e non lo saprete mai capite? esatto non dovete saperlo ehm andiamo aspettate che questo fiume di fare il tank ma che ho detto mettiamo prima le ceste l'ala il quarry il tank lo mettiamo dopo ah eh vabbè ormai qua è che tanto ci servono pure i gemmi e i geothermal tipo ne facciamo tre non lo so due quattro due ciascuno ne facciamo eh bravo adesso eh spaccalo vabbè ho capito sei lento come la morte ok ok andiamo andiamo ce l'ha il va guarda guardatelo che si ferma guardate quanto sei l'ho eh dov'è ne l'henderchest aspetta ma che palle ma hai detto che ce l'avevi con te sì no l'ho posato a qualche parte interessante non c'è emerald qui no 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 l'ho posato qua aspetta emerald non c'è dito ci sono a qualche parte emerald se non c'è il tesseract come facciamo no il tesseract ce l'ho io dico l'henderchest ma ce l'ho io l'henderchest oh madonna io ti chiedo il tesseract e tu rispondi enderchest ma shinx ti pare che devi sfidarmi shalice alla 61 allora ragazzi come vedete draconair è a livello 51 55 dovrebbe evolversi se la mia mente non mi inganna però la mia mente mi sta ingannando sicuramente quindi non si evolve al 55 allora io direi di metterlo qui perché la neve mi sta sul culo allora ok i landmarks ce l'hai si poi uno qui ok gg poi ne mettiamo aspetta scava 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 ah ma io c'ho la diamondrill ok qui va bene ok e qui devo mettere il query giusto no la mettiamo qua in quest'angolo ma lo devo mettere un blocco prima del landmark giusto si si il blocco sotto in pratica qui ok prendiamo il landmark anche se effettivamente la mod dei dei cazzi qui eh mi hai fottuto un landmark si si ce l'ho io tieni ok la mod dell'ender chest è abbastanza inutile senza i tubi capite però vabbè perché non c'ho più i cosi i teleport lo sta scavando perché ci mancava il tubo della corrente mi sono sfruttato a casa arrivo subito eh tipo arrivo uh c'è un boss io lo sfido magari mi droppo un'altra master ball in diretta in diretta mondiale attenzione attenzione dale contro un boss che è sicuramente sotto terra e che emerald sta già sfidando fluff è livello 100 fluff è livello 100 ci godo ti devi inculare malissimo tutta la squadra te per uscio tanto ci muori io sono già pronto con Mewtwo vai io uso inferno direttamente inferno che sarebbe aspetta tried to use but missed aspetta inferno che cazzo era la boss è incendio è incendio e poi devi anche stare fermo un turno coglione sì ma ce l'ho ha shottato praticamente secondo me ti shotta lui no no l'ho shottato ok è morto che ti ha droppato aspetta mi ha droppato una bella funchia di di micia oddio un omer in diamante full eel ether e round vabbè niente da fare niente solo io ho troppo le master ball dai prendi sto tubo prendi sto tubo prendi sto tubo prendi sto tubo vabbè ho capito metto in pausa perchè emerald è lento come la morte l'utubicin è stato messo ma io non vedo niente di nuovo emerald aspetta perchè il quarry non sta partendo aspetta emerald cosa hai da dire in tua discorpa aspetta 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 eccolo qua visto uuuh gabo eccolo gabo sta andando gabo gabo ok ma se dobbiamo fare subito velocemente uno smistamento perchè sennò questa cesta è piccolissima ma come si fanno lo smistamento adesso ce l'abbiamo i pike per farlo no ottimo dad porca puttana emerald si probabilmente ci vedrete nel prossimo episodio con una nuova mod che si chiamano aspetta com'è che si chiamano con la mod logistic pipe no la logistic pipe probabilmente metteremo anche la mod dei barrel dato che così ci svuotiamo anche le personal safe e le diamo le ceste da qua tipo sta parete e qua la riempiamo di barrel eh eh allora volendo si potrebbe fare però con i diamond pipe diamond pipe però non lo facciamo adesso perchè io mi rompo il cazzo allora geothermal generator geo ho detto geo vabbè noi facciamo sì che ogni due minuti controlliamo sta cesta e vediamo un po' cosa trovo esatto oh mio dio mettiamo questo a cuocere prima che esploda tutto vai tu qui dentro metto in pausa tra poco allora ragazzi in teoria le empty cell si fanno come dico io solo che non me le lascia fare quindi dato che per 4 team ti da 16 empty cell io farò così perchè mi sono lotti i coglioni no game mod 1 1 2 no le ho buttate tutte e 5 vaffanculo le buto tutte e 58 mi prendo uno stack di empty cell anche se ci sto andando a perdere effettivamente guardate che cosa ho combinato ho fatto un infatti non lo so non lo so non mi interessa saperlo capisci però funziona finchè funziona è tutto ok emerald capisci che noi non abbiamo le empty cell in questo gioco non ci sono ah no eccole no queste sono le re battery empty cell me ne prendo uno stack perchè ne da 16 alla volta anzi me ne prendo 2 stack dato che ho buttato 58 team game mod 0 poi il vetro il vetro tipo adesso io già lo so che non abbiamo vetro anzi non abbiamo nemmeno la sabbia sono sicuro ecco sandstone e la sabbia non c'è sabbia non c'è sabbia ma perchè 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 i miei episodi devono essere tutti così capisci io non posso continuare a vivere così emerald basta questa serie finisce qui io non che cazzo era emerald perchè stai esplodendo zoroark senti io già sono incazzato poi tu mi sfidi io ti distruggo capisci allora vai spacca spaccati sabbia perchè mi fai andare sott'acqua vai spacca tutto spacca 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 ok perfetto ok m group casa t io ovviamente quando mi teletrasporto spawno sopra la casa perchè è troppo mainstream spawnare m perchè c'è un buco in casa ok guardate lo smistamento chest di emerald che in realtà sta funzionando emerald ma sono già piene tutte no la prima no come cazzo fa essere già piena sta cesta vabbè devo cuocere devo cuocere devo cuocere fast 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 vai vai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ma do la velocità a questa fornace allora come si faceva il geotermo al generator così questi sono iron team iron team e li ho già fatti allora 1 e 2 questo qui questo qui e qui questo qui e qui e questo qui e qui emerald ho fatto un geothermal generator ok gg però a me mi serve un ottimo posiamo tutta sta roba di cui non ci serve un cazzo martello posa la orb che non si riempirà mai allora dove cazzo lo devo mettere questo Gesù adesso aspetta nel cuore tuo copperuto allora il ferro va qui l'uranio va qui e l'alluminio va qui intanto io ho un geothermal generator in mano ma non so cosa farne qui sta arrivando tanta altra roba ma io per curiosità non voglio andare un attimo al query voglio vedere quanto cazzo ha scavato venite con me venite con me venite con me venite con me capite perché io la pixel non devo concluderla perché non non si può andare avanti così cioè le serie con emerald sono più o meno impossibili tipo la quest principale di questa serie arriva vivo a fine serie cioè guardate qua quanto cazzo ha scavato questo cosa ha fatto un buco di non lo so ci entra la nostra casa tre volte dentro e non è nemmeno a metà madonna vabbè ma io non voglio tornare a casa a piedi quindi ovviamente non ci sono morto non ci posso credere quando voglio morire non muoio sì ok gg entriamo nel buco che adesso emerald ha chiuso vabbè ok emerald dove lo metto il geothermal aspetta oddio funziona siamo più veloci del query siamo più veloci del query con questo smistamento sul serio guardate quanto cazzo piotta stavolta sì ma mi sa che tre ceste non bastano o forse sì cioè questo è il best smistamento euro non abbiamo bisogno di altre mod capite e quindi è un gg ad emerald che ha mandato dei wooden pipe a fianco aspetta abbiamo i barrel mi pare di sì sì mi pare di sì allora ok sì facciamo il quantum bar oh cazzo come andai il quantum barrel vuoi fare sei sicuro no no facciamolo il primo si vabbè si può fare ne possiamo fare anche un bot in teoria ne fanne li sto facendo io ne faccio tre quattro mille sì sì perché così facciamo la per la dirt e la cobres facciamo i barrel direttamente eh infatti mi sa che ci conviene aspetta me ne dovrebbero venire una decina più o meno sì infatti me ne vengono dieci perfetto ok allora aspetta ole dieci barrel provo a metterlo qua sopra un attimo se lo sta cesto se lo sta cesto c'entra dentro il coso vediamo aspetta mi sa che glielo devi mettere tu funziona 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 ok metti qua sopra wow 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 a fianco ci metto quello con la dirt aspetta no metti ecco bello perfetto e qui invece ci mettiamo sì ma sto i barrel quant'è che tiene 64 aspetta c'è scritto old 64 64 stack no 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 mettini allora come se faccio con i pochetti più avanzati no vabbè iniziamo a ottenere questi alla fine ne abbiamo altri 7 cioè m64 stack di ogni roba non penso che il query ci fa 64 stack di ogni cosa di cobblestone sì oddio qua già ce ne sono 30 vabbè ho capito ne metto un altro vabbè iniziamo a mettere sto cosa cioè metterlo tu divertiti no questo episodio doveva essere solo un noi che costruiamo geothermal generator che stack 18 stack 32 m basta basta m basta ho detto m ho detto basta ok 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 dove lo mettiamo questo geothermal a parte che tu hai il tank eeeh allora usciamo fuori spacciamo la cobblestone no basta ci mettiamo qua ecco fermo 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 qua 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 allora ti devi attaccare porco farlo attaccare qua in sto punto qua mettici un coso un cavo ce l'hai si ne ho 6 ok perfetto metti il generatore davanti fatto e devi metterci il tank merda eh servono in liquid act però mi to be guardo le cose perché non funziona a primo impatto lì eeeh vabbè ma se dobbiamo mettercene poi di più ah si questo è vero emerald sbrigati arriva 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 il bello è che io sto pensando che devo ancora censurare la tua bestemmia la cosa mi fa incazzare perché io non c'ho voglia di bippare capisci però lo farò lo stesso perché altrimenti strike di tutto vai vai emerald metti metti tutto metti metti oh mio dio emerald mettilo il tank ovviamente cosa ho fatto wow 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 non succhia aspetta perché sbeva a metterlo staccalo 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 fatto wow 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 oh mio dio oh mio dio guarda quanto sta buffando 300 eu 400 ah perché l'mf è pieno ecco perché ah l'mf è pieno mi sa che abbiamo troppi solar panel e bene ragazzi nel prossimo episodio probabilmente qualcuno di noi farà un mfs esatto che praticamente vale quanto 4 mf mi pare e qui c'è un boss che io adesso sfido quindi vai giù Mewtwo oh ho trovato 20 20 block of call che culo eh si io sono andato a capisci a scavare ho droppato la peggio merda ah un electrode livello 90 penso non mi toccherà minimamente il mio Mewtwo andiamo con energy per l'ultimo e ho ucciso oh emerald ho 4 master no non ci credo dai te ne do una giusto perché mi fai pena ok ok ragazzi questo episodio finisce qui mi raccomando il canale di emerald in descrizione andate a vedere l'episodio successivo perché altrimenti mi chiedete come che poi mi commentano i video oh ma come hai fatto a fare il query e nell'episodio di emerald eh ma come hai fatto a fare l'episodio di emerald guardalo cristo guardate il canale di emerald probabilmente con emerald faremo anche altri video non vi dico di cosa e probabilmente adesso avete sentito un clink di ts è il primo che se sia scritto qualcuno io lo ammazzo leggi il link leggi il link che hanno inviato eh non leggiamo vabbè dodò in alto a destra la bestemmia di emerald sarà censurata ciao a tutti ciao a tutti ah si un altro video con emerald su un gioco dove io non sono bravo emerald me l'ha comprato però gli devo dare i soldi indietro grazie emerald ciao a tutti eme puzza anche da aspetta aspetta fatale no